Buongiorno, bentrovati, appuntamento del lunedì, con la nostra consueta rassegna stampa, mattino 6, dedicato oggi in gran parte, come ogni inizio di settimana, alle vicende sportive, soprattutto al calcio. Nella seconda parte vedremo diversi servizi che hanno riguardato e che riguardano le nostre formazioni, ovviamente riflettori puntati sul derby giocato ieri pomeriggio all'Adriatico, con la vittoria delle Pescara per 4-0 sulla Virtus Lanciano. Ma andiamo per ordine, iniziamo come sempre ricordando il santo del giorno, che viene ricordato, viene venerato dalla Chiesa Cattolica, si tratta di San Pacomio Abate, santo fu il padre del cenobismo monastico. Soldato Esne ebbe occasione di conoscere cristiani e fu spinto ad imitarli. Lasciata dunque la militizia, si ritirò presso un piccolo tempio abbandonato di Senesit e poco dopo fu battezzato. Fallito il suo primo tentativo ascetico, si ritirò a vita anacoretica sotto la guida del monaco Palomone. In questo periodo potè rendersi conto dei difetti della vita anacoretica e comprese la necessità di una vita in comune, in un monastero, sotto la direzione di un superiore. Si separò così da Palomone e a Tabennisi, un villaggio abbandonato sulla riva destra del Nilo, organizzò una comunità religiosa di cui fu abate, caratterizzata dalla sottomissione ad una regola e dalla costituzione di superiori. Potè così raccogliere parecchie centinaia di cenobiti in un solo monastero e fondarne altri. Al torno al 400 si conteranno quasi 5.000 monaci. Pancomio redasse la prima regola che da lui prende il nome in lingua copta. Essa c'è giunta completa solo nella traduzione latina dal greco, curata da Girolamo nel 404. Dei testi copto e greco vi sono solo alcuni frammenti. Essa imponeva non solo preghiere e digiuni, ma anche il lavoro manuale e lo studio della Bibbia. In appendice alla regola tradotta da San Girolamo si trovano detti e ammonimenti di Pancomio e undici lettere, di cui due in criptografia. Dunque San Pancomio abate, ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. Noi apriamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine del quotidiano Il Centro, le quattro edizioni. Partiamo dall'edizione di Pescara per vedere i titoli principali che sono sul giornale Oggi in Edicola. Ovviamente grande spazio, come vi dicevo, e lo vedete nella foto di centropagina al derby. Giocato ieri allo Stadio Adriatico, Pescara spettacolo è terzo, quattro reti a Lanciano, 14.000 in festa allo Stadio Adriatico. Poi altre notizie, la prima che arriva da Avezzano, Corona in Abruzzo, bloccato dalla polizia. Puzza insopportabile, i residenti protestano, Sanzificio sotto accusa a Pescara. Poi ad Ortona, accoltellato per gelosia, tragedia sfiorata al termine di una festa. Lasciamo l'edizione di Pescara del centro, andiamo a vedere insieme ora l'edizione di Chieti, Lanciano, Vasto. Poi ovviamente proseguiremo con l'edizione di Teramo e infine con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo la prima pagina del centro, edizione di Chieti. Eccola qui, una notizia di cronaca in apertura, tenta di ucciderlo per gelosia. Riguardo a proprio la notizia che abbiamo visto anche sull'edizione di Pescara d'Ortona, coltellata alla schiena dopo la festa, 24enne arrestato. E poi la foto di centropagine, in questo caso in chiave Lanciano, essendo questa l'edizione di Chieti. Lanciano a terra, servono sei punti per sperare due le giornate al termine. Lanciano ancora in corsa, almeno per tentare l'aggancio alla zona play-out. E poi ritroviamo il titolo che riguarda Avezzano, Corona in Abruzzo, fermato dalla polizia. E poi la SAS in assemblea rinnova i vertici, un ex sindaco per il dopo scutti. E poi sanità, in questo caso terapia sbagliata muore al policlinico di Chieti. La ASL risarcirà oltre 600 mila euro. Lasciamo l'edizione di Chieti, andiamo a vedere insieme l'edizione di Teramo del quotidiano Il Centro. Poi, come detto, chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo la prima pagina. Insulti su Facebook. Sarà processata Teramo, studentessa di 24 anni, davanti al giudice per aver offeso l'ex compagna di scuola sul social. Individuata anche se aveva creato un falso profilo. L'accusa è di diffamazione aggravata. A centropagina lo sport, in questo caso il basket, pallacanestro di Serie 2 play-off. Roseto rimette le cose a posto. Ora la bella vittoria dei Rosetani contro il Ferentino in gara 4. Dunque prosegue la corsa della formazione di coach Toni Trullo, che vedete con le braccia alzate dopo la vittoria con la formazione laziale. E poi Teramo, scuola in lutto, addio a Diggia Natale, preside dell'Istituto Milli. E poi Alba Adriatica, sarà un'estate senza sagre. E poi una notizia che arriva da Teramo, Samira, oggi la sentenza davanti ai giudici, la mamma che ha ucciso le figlie. Chiudiamo con l'edizione di L'Aquila, Vezzano e Sulmona del quotidiano Il Centro. Poi andremo a vedere, grazie al sito del Ministero degli Interni, i titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ma vediamo la prima pagina del centro, edizione dell'Aquila. L'Aquila, morti in 24, ma lo Stato vuole i danni, terremoto, tragedia di via Campo di Fossa, sorprendente richiesta di indennizzo dell'Avvocatura. I proprietari degli appartamenti corresponsabili del crollo devono sborsare 4 milioni. La fotonotizia, come ogni lunedì, riguarda lo sport, in questo caso l'Aquila, che ai play-out pesca il Rimini dell'ex Acori. Ieri, nell'ultima giornata della stagione regolare, l'Aquila è andata a vincere sul campo della Lupa Roma. E poi vediamo altre notizie. Sul Mona verso il voto, Grillini due giorni per ottenere il simbolo. E poi muore, giallo sui soccorsi, l'Aquila, ambulanza bloccata dal passaggio a livello. Lasciamo dunque le prime pagine del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere, grazie proprio al sito, come vi dicevo, del Ministero degli Interni, i titoli dei giornali dei quotidiani. Oggi in edicola partiamo dal messaggero quotidiano nazionale, in questo caso partiamo con il messaggero quotidiano di Roma. CSM ai magistrati, basta comizi Legnini, vicepresidente del CSM, richiama dunque i magistrati all'ordine. Il referendum ha un significato politico, no a campagne, ha detto il vicepresidente del CSM. Poi la notizia che riguarda il calcio, in questo caso la Roma, per la Roma una festa a metà, vince ma resta al terzo posto. E poi le elezioni di Roma per il nuovo sindaco della capitale, sinistra fuori dalle liste, scossa sulla corsa al Campidoglio, esclusi i candidati di Fassina. Andiamo avanti dal messaggero, siamo a Repubblica. Anche qui il titolo principale riguarda la giustizia. Il CSM avverte i giudici, toghe via dalla politica. Il Premier, Renzi dice, non temo, IPM, Nogarin del Movimento 5 Stelle si difende. Poi Chaos List a Roma e Milano. E poi un titolo che riguarda lo sport, quattro anni dopo di nuovo Schwarzer, sono cambiato. E adesso mi piace soffrire successo del Maratoneta che è tornato all'attività. Dopo lo stop, andiamo ancora avanti. Da Repubblica passiamo al Corriere della Sera. Anche qui, come sugli altri quotidiani, il titolo principale riguarda i magistrati. I magistrati niente campagne. Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, dice, cautela sulle dichiarazioni. Le toghe di magistratura democratica dicono giusto impegnarsi. E dunque c'è questa polemica. E poi il reportage degli inviati del Corriere della Sera in Iraq. Vendette, spie e prigioniere Mosul, voci dall'inferno dell'Isis. Questo reportage che proprio parla della situazione in Iraq. E poi ritroviamo anche sul Corriere della Sera questa notizia che riguarda le amministrative di Roma. Escluse le liste di Fassina, scossone sul voto a Roma. Ma Fassina ha già preannunciato un ricorso. Andiamo ancora avanti. Dal Corriere della Sera passiamo al quotidiano. Il giornale, fisco diabolico, tutte le tasse invisibili, fiammiferi, lotto, funerali, il 96% delle imposte che paghiamo è nascosto. Il governo promette giù l'IRPEF. E dunque questo è il titolo principale del giornale. Poi vediamo lo sport in marcia dopo il doping. Swazer vince e va a Rio. Ma per tornare ad amarlo ci servirà ancora tempo. Questo è l'articolo del giornale sul successo ottenuto comunque dall'atleta che a questo punto parteciperà alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Andiamo a centropagina per parlare di politica. Prove di pace nel centrodestra. Berlusconi alle politiche con Lega e Fratelli d'Italia. Comunali, caos per le liste escluse a Roma e Milano. Un aiutino a Giacchetti e Sala. Andiamo ancora avanti. Siamo al Fatto Quotidiano. Tutti zitti. Può parlare solo lui. Renzi di Laga racconta bugie da Fazio. Giannini di Ballarò vuole una RAI come l'EIAR. Ieri il Premier Matteo Renzi è stato ospite proprio nella trasmissione di Fabio Fazio. E poi vedete in alto due titoli che riguardano due argomenti importanti. Il primo, caos liste, Roma a Calabria fuori, Fassina e Gentile e i Democratici ringraziano. E poi Tunisia ha la fame. L'Isis è l'unica vera chance di lavoro. Dunque nel paese nordafricano. Situazione difficile di cui approfitta proprio l'Isis. Andiamo a centropagina. Milano, Sala e Parisi in finale. Ma l'arbitro saranno i 5 stelle. Parliamo della sfida in questo caso a Milano per il nuovo sindaco. Proseguiamo. Siamo al quotidiano Il Tempo di Roma. Il titolo principale riguarda la situazione. Strade nella capitale, strade pericolose, buche e frane. La farsa dei cantieri mai aperti. Poi il quotidiano romano parla della Roma e della Lazio. Dunque delle squadre romane. Per la Roma festa a metà. La Lazio vince. Ma è tardi. Giallorossi battono il Chievo 3-0 ma restano al terzo posto. Il Napoli risponde e resta a più due per la Lazio. Vittoria in casa del Carpi. Poi un titolo che riguarda la politica. Berlusconi, io in campo nel 2018. Andiamo ancora avanti. Siamo al quotidiano libero. Dossier previdenza in pensione prima. Ecco come andarci. L'addio anticipato può costare anche l'8% dell'assegno. Ed il taglio può durare fino a 20 anni. Attenti alla beffa. Meno si guadagna. Più tardi ci si potrà ritirare. E poi Raffaele Cantone. Sono un PM ma i giudici non mi perdonano di lavorare per il governo. C'è questa intervista al giudice Raffaele Cantone. Che parla proprio della sua esperienza nell'organismo anticorruzione. Siamo al quotidiano Il Foglio. Il titolo principale riguarda la giustizia. La giustizia è impazzita a Lodi. Questo è il titolo del quotidiano. Che tratta tematiche propriamente di politica. Siamo al quotidiano L'Unità. Te lo do io le dimissioni. Grillo in bullona alle loro portrone. Il sindaco di Livorno e il suo assessore indagati. E poi Serracchiani, esponente del Partito Democratico, bravi a fare la morale agli altri. A Roma escluse le liste per Fassina. E poi anche sul quotidiano L'Unità vediamo questo abbraccio commuovente. Bisogna dirlo tra Schwarzer e il suo preparatore. Il ritorno di un campione. Abbiamo visto la vittoria e dunque l'approdo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. L'ultimo titolo in basso. Carlo Calenda, nuovo ministro dello sviluppo. Il premier ospite da Fazio. Ieri sera parla di questione morale, giudici e unioni civili. Giovedì prossimo saranno legge. E questo era l'ultimo quotidiano per quanto riguarda la rassegna stampa del Ministero degli Interi. Andiamo a vedere ora il titolo della Gazzetta dello Sport di oggi in edicola. Un titolo, titoli che riguardano proprio la giornata calcistica di ieri ma non solo per quanto riguarda il calcio. Quella di ieri è stata una giornata importante in Serie A ma anche in Serie B come detto per la vittoria del Pescara. Ovviamente si parla soprattutto di massima serie sulla Gazzetta dello Sport. Il Napoli vince 2-1 con il Torino. Re Iguain, il secondo è servito. Secondo sta per secondo posto. Il Pipita prende a 33 reti. Angelillo e sabato con il Frosinone cerca due grandi traguardi. Record di Nordal, 35 reti e Champions diretta. Dunque Napoli ad un passo dal secondo posto. E poi vediamo anche altri titoli. Il Sassuolo è sesto. Il Milan chiede aiuto all'Inter. E Ibra a Micca. Sassuolo che è andato a vincere a Frosinone. Che ha controsorpassato il Milan. Che nell'anticipo di sabato aveva vinto in casa del Bologna per 1-0. Allora altri due titoli. Il primo riguarda ovviamente il Giro d'Italia. Kittel bis in Italia in rosa. Ancora un bagno di folla in Olanda. Domani si riparte da Catanzaro con il tedesco leader. Tra l'altro a proposito vi ricordo il Giro d'Italia giovedì sarà in Abruzzo. E per la precisione a Roccarazzo. E poi venerdì ci sarà la partenza della tappa successiva da Sulmona. E poi ritroviamo il titolo che abbiamo visto un po' su tutti i quotidiani. Schwarzer Mondiale. Marcia trionfale verso l'Olimpiade. L'Alto Atesino dopo il lungo stop per doping. Stravince la 50 km a Roma. E oro a squadre. E dunque si avvicina l'appuntamento con le Olimpiadi. Per l'atleta Alto Atesino. Possiamo tornare, prima di parlare del meteo, alle 7.20 con il nostro Giovanni De Palma. Possiamo tornare al quotidiano Il Centro per andare a vedere le prime pagine di cronaca regionale. Prima appunto di volgere lo sguardo alla situazione meteorologica della nostra regione. Partiamo dalla prima pagina d'Abruzzo. Eccola qui. Dirigenti d'azienda. Patto con la regione per superare la crisi. La proposta di Federmanager Toscana e Abruzzo. Trasferire le nostre competenze alle imprese locali. Poi telefonia. Rimborsi per 3 milioni. Boom di conciliazioni a favore di famiglie e imprese della regione. Parliamo del Corecom Abruzzo. Vedete nella foto il presidente del Corecom Filippo Luci. Andiamo ancora avanti. Animali domestici. Cani. Meno abbandoni. Ma i randaggi sono troppi. In Abruzzo sono 22.800 gli esemplari regolari registrati all'anagrafe. Canina. Ma si moltiplicano gli ospiti. Nei canili. Tutti i numeri del servizio veterinario. E siamo già alla pagina di Pescara. Andiamo a vedere ora invece le pagine di cronaca regionale del messaggero. Poi ovviamente parleremo di meteo con il nostro Giovanni De Palma per sapere quali sono le previsioni per i prossimi giorni nella nostra regione. Oggi non è una giornata propriamente estiva con il cielo nuvoloso in molte zone della nostra regione. Allora andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano del messaggero. Eccola qui. Il titolo d'apertura riguarda il calcio. Pescara, derby e terzo posto. Poker secco a Lanciano. Grande festa all'Adriatico per 14.000 tifosi. E il record stagionale. Virtus in ginocchio. Dopo l'1-0 Maragliulo. Dobbiamo riprenderci perché non c'è più tempo. E poi altri titoli. Questioni tecniche e divisioni dietro gli autogol grillini. Si parla di politica. Si parla anche in funzione delle prossime imminenti amministrative. E poi siamo già alle pagine della cronaca di Pescara. Allora possiamo ritornare sul centro in questo ping pong. Andando a vedere, proprio iniziando a leggere insieme le prime pagine che riguardano la cronaca dalle province. Pescara, sanzificio sotto accusa, puzza insopportabile. La gente protesta. Ecco qui il titolo di apertura di questa prima pagina. Riesplode la rabbia dei residenti di Villa del Fuoco che annunciano una raccolta di firme. Vivere qui, dicono, è impossibile. Ma la fabbrica, per ora, resterà in funzione. Andiamo avanti. Io abusivo voglio solo lavorare. Dopo lo sgombero del parcheggio all'ospedale, Camillo Spinelli chiede di essere messo in regola. E poi in basso cronaca cade dalla moto. Paura sull'asse attrezzato. Proseguiamo. Matrimoni più cari all'Aurum. E ora ci si sposa. Anche in Pineta il comune fissa le nuove tariffe per la celebrazione delle cerimonie nelle sale dell'ex licorificio. La spesa sale da 350 a 500 euro. Per le nozze nella riserva d'Annunziana se ne devono sborsare 700. E poi ieri allo Stadio Adriatico, a proposito di sport, inaugurati 84 posti sugli spalti riservati ai disabili. E poi un'altra manifestazione importante che si è tenuta ieri a Pescara. Le strade invase da 1.500 ciclisti per il Bici in città. Manifestazione organizzata dalla Wisp Abruzzo Molise. Prima di passare al meteo, l'ultima pagina che riguarda Pescara e la zona metropolitana. Montesilvano. In questo caso troppi furti. Dateci un posto di polizia. Fioriti di contribuenti italiani pronto a sostenere la battaglia del COISP più sicurezza. Siamo la terza città d'Abruzzo. E poi i popoli. Le terme riaprono al pubblico con un parco per i bambini. Siamo poi a Francavilla. Conteggi a Francavilla. Traballa la candidatura di Montebello a Manopello Scalo. Tamponamento moto-auto Centauro lievemente ferito. Infine Penne, Falconetti e Semproni. E' partita la sfida. Parliamo delle elezioni che si terranno nella cittadina bestina. Prima di proseguire con le altre pagine del centro e poi del messaggero. Sono le 7.20 dunque possiamo aprire come sempre la pagina del meteo. Lo facciamo come di consueto con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, si apre una nuova settimana all'insegna da quello che abbiamo potuto vedere questa mattina del tempo piuttosto capriccioso. Ci avevi detto qualche giorno fa che l'estate vera e propria, per vedere l'estate vera e propria, bisognerà ancora attendere. E' così? Esattamente, bisognerà ancora attendere perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione la stabilità atmosferica è ancora molto, molto lontana. Questo perché in questi ultimi giorni la situazione meteorologica è caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione depressionale in azione sulla penisola iberica che favorisce una risalita di masse d'aria calda all'entroterra algerino e tunisino diretto principalmente verso le regioni centro-meridionali. La risalita di queste masse d'aria calda favorisce anche la formazione di una estesa copertura nuvolosa mista anche a sabbia africana, nubi alte e stratificate che non producono precipitazioni o tutt'al più favoriscono deboli fenomeni localmente anche sulla nostra regione. Questa situazione non cambierà di molto nelle prossime ore, saremo interessati da questa diffusa copertura nuvolosa in temporanea attenuazione tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio anche se sussiste la possibilità comunque di addensamenti più consistenti sulle zone montuose con occasionali rovesci pomeridiani comunque in attenuazione nel corso della serata e in nottata. Anche la giornata di martedì vedrà magari un cielo più aperto, con maggior probabilità di assistere a un cielo più aperto quindi con maggiori schiarite ma comunque la tendenza è poi verso un graduale peggioramento e quindi già domani sera inizierà a manifestarsi il peggioramento perché la vasta circolazione depressionaria in azione sulla penisola iberica tenderà nei prossimi giorni a partire da domani ma soprattutto nel corso dei prossimi giorni a spostarsi gradualmente verso la nostra penisola e ciò favorirà sicuramente la formazione di temporali quindi un deciso aumento dell'instabilità temporali sulle regioni tirreniche in estensione poi anche sulla nostra regione nel corso della giornata di mercoledì quindi da mercoledì il tempo diverrà instabile le temperature diminuiranno mentre nelle prossime ore e nella giornata di domani assisteremo un ulteriore aumento delle temperature perché è prevista la temporanea risalita appunto di masse d'aria calda dall'emprotere al girino. Poi Paolo la situazione non cambierà di molto nel tempo instabile continuerà a manifestarsi probabilmente per tutta la settimana in particolar modo anche nel fine settimana. Giovanni prima di salutarci la domanda che tutti si fanno è questa quando arriverà l'estate visto che ormai siamo davvero vicini anche diciamo alle prime giornate che negli anni scorsi hanno permesso a tanti di poter approfittare per le prime tintarelle. Ma guarda diciamo che osservando gli ultimi aggiornamenti come dicevo in apertura la situazione meteorologica è tale che continuerà ad essere caratterizzata da diffuse condizioni di instabilità proprio perché l'alta pressione non intende posizionarsi e raggiungere il Mediterraneo centrale che sarà invece influenzato da prima da masse d'aria calda dall'entroterra al girino poi successivamente da correnti più fresche d'origine atlantica e poi nord atlantica e quindi di conseguenza il tempo continuerà ad essere stabile anche nel fine settimana e probabilmente anche nei primi giorni della prossima settimana. Quindi insomma in questo periodo non emerge un quadro sicuramente favorevole e ripeto la stabilità è ancora molto molto lontana. Grazie Giovanni, dunque bisognerà attendere per le prime giornate di mare grazie, appuntamento con te domani sempre nel corso di Mattino 6 grazie e buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma sempre puntuale con le sue previsioni vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org eccolo qui inquadrato dove potete restare sempre aggiornati in tempo reale sull'evoluzione meteo della nostra regione poi vi ricordo anche la pagina Facebook del nostro meteorologo utile strumento anche per interagire con Giovanni De Palma e dunque anche in questo caso avere notizie aggiornate sul tempo della nostra regione. Noi torniamo alle nostre pagine dei quotidiani eravamo alla pagina di Chieti, stavamo per leggere insieme la pagina di Chieti del quotidiano Il Centro, si parla di cronaca in questo caso siamo ad Ortona per la precisione, tentato omicidio, geloso per una donna a coltella il rivale, arrestato il romeno che ha ferito alla schiena un connazionale ora ricoverato in rianimazione con un polmone perforato e poi Chieti muore per l'emorragia, Max Indennizzo, Chieti Asl condannato a versare oltre 600 mila euro ai familiari di un 68enne deceduto al Policlinico vediamo in basso altre due notizie Fossa Cesia, morto Marrone, campione di marcia, emigrato in Canada aveva 91 anni e poi Vasto, uccise i genitori, attesa la sentenza definitiva andiamo avanti, siamo alla pagina dell'Aquila del quotidiano Il Centro palazzo crollato per il terremoto, morti in 24, ma lo Stato chiede i danni via Campo di Fossa, l'Avvocatura pretende 4 milioni di indennizzo proprietari degli appartamenti responsabili del crollo poi una notizia di cronaca, furgone svuotato dai ladri e poi altre notizie, politica, in questo caso lunghe codi in autostrada l'ira del sindaco Cialente, sono stato testimone del venir meno degli obblighi della società concessionaria, ha detto il primo cittadino dell'Aquila poi andiamo in Marsica d'Avezzano, Corona finisce la serata in commissariato ospite al teatro Torlonia, ma non aveva il permesso del giudice di sorveglianza e siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro il caso, insulti su Facebook, finisce alla sbarra epiteti contro una ex compagna di scuola con il finto profilo di un'amica studentessa nei guai per diffamazione aggravata e poi Martinsicuro oggi la sentenza per Samira, la madre che ha ucciso le figlie in basso Teramo, scuola in lutto, è morto Giovanni Di Giannatale, preside dell'Istituto Milli e poi Teramo, una notizia di cronaca, carabiniere ferito in moto, travolto dalla macchina in retromarcia siamo arrivati alle pagine dello sport, dunque possiamo lasciare il centro almeno per il momento, andare a vedere i titoli le prime pagine del messaggero, partendo dalla cronaca di Pescara il sabato notte, delle auto impazzite, una ragazza neopatentata risultata positiva all'alcol testa, travolto cinque macchine parcheggiate in via della porta a Parco dei Risis, altri due giovanissimi sono finiti dentro un negozio e poi si parla di politica, rischio e sondazione a fosso grande appello di Movimento 5 Stelle e residenti alla regione poi l'inaugurazione del nuovo settore disabili dello stadio adriatico il gol più bello di ieri, vedete la foto della nuova tribuna per i disabili e poi la manifestazione organizzata dalla Guispo e dalla Fidas il Bicine Città in 1500 al via da Piazza della Rinascita ancora avanti l'Aquila, la scuola internazionale si parte dal prossimo anno coinvolti nella prima fase tre istituti aquilani dalla materna alle superiori e poi si parla di politica in questo titolo di spalla in questo articolo d'Alfonso sul bilancio governo disponibile poi in basso l'inchiesta millantava entrature per appalti è stato incriminato Avezzano Sulmona torna dal Brasile e trova il suo conto svuotato la brutta avventura durata tre mesi di un notissimo imprenditore Avezzanese, ancora Avezzano corone in commissario dopo lo show in commissariato, pardon, dopo lo show in discoteca Sulmona nuovi turni, sciopero del 90% alla Magneti Marelli allora noi ci fermiamo per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 proseguiremo nella lettura dei nostri quotidiani e poi vedremo i primi servizi che riguardano la giornata calcistica di ieri di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6 eravamo alle pagine del messaggero pagina di Chieti vediamo il titolo d'apertura Mostra i laboratori per la cultura rinasce l'ultima dimora di Mafalda il museo d'arte contemporanea andrà nei locali dell'ex cinema Eden poi Vasto, automobile impazzita finisce contro la scuola Ortona tenta di uccidere il rivale in amore giovane grave, preso l'accoltellatore vediamo in basso Sevel, scoppia il caso delle ferie scontro sulla scelta azienda CISL andiamo ancora avanti siamo alla pagina di Teramo del messaggero carabiniere in moto si schianta contro un'auto il militare di 53 anni originario di Atri si stava dirigendo in caserma gravi traumi e poi l'addio a Diggianatale storico docente scolastico in questo caso dell'istituto Migli e poi Giulianova chiude l'antica pizzeria della piazza altro pezzo della città che se ne va infine Roseto vedete in basso a fondo pagina comunali la delusione di Rapagnà e Fasciocco esclusi siamo arrivati alle pagine dello sport allora possiamo ripartire dal quotidiano il centro per andare a vedere le prime pagine che riguardano lo sport la pagina d'apertura poker del Pescara la Virtus Vakapo e Biancazzurri certi matematicamente dei playoff salgano al terzo posto il Lanciano con un piede nel baratro allora andiamo a vedere dopo aver visto anche le pagine che riguardano la Serie A con la Juve Molle ultimo acuto di Toni Bianconeri sconfitti per 2 a 1 a Verona altri titoli che riguardano il massimo campionato con il Napoli che blinda il secondo posto Higuain a meno 2 da Nordal poi un titolo che invece riguarda il Pescara perché Verratti vede in un pub il derby dell'Adriatico il campione ieri era a Manoppello domani tornerà a Parigi con il suo procuratore di Campi e poi volerà in Qatar il 16 maggio ci sarà l'operazione Verratti che non potrà prendere parte ai campionati europei allora andiamo a vedere le pagine che riguardano il calcio di casa nostra ecco la doppia pagina che riguarda in questo caso il derby Pescara dà spettacolo e affonda il Lanciano playoff matematici Biancazzurri che scavalcono il Trapani e dunque sono ora al terzo posto Zampano vuole raggiungere il fratello Giuseppe in Serie A il terzino al primo gol in Biancazzurro pensa al gemello del Crotone Rivela e una liberazione non vedevo l'ora di segnare ora Oddo mi multerà tra virgolette perché Zampano come vedete anche dalla foto si è tolto la maglia dopo il gol del 2 a 0 ed è stato ammonito dal direttore di gara vedete anche in basso un'altra foto che riguarda la partita di ieri il ricordo dei tifosi del Pescara per Domenico Rigante capo storico della tifoseria Biancazzurra scomparso alcuni anni fa allora andiamo a vedere dunque nelle immagini andiamo a rivivere insieme le emozioni di questo derby giocato dinanzi a quasi 15.000 spettatori Pescara che ha battuto la Virtus Lanciano per 4 a 0 il Delfino non fa sconti e nel derby dello stadio adriatico supera nettamente con pieno merito la Virtus Lanciano in un match che è durato mezz'ora con il crollo dei rossoneri dopo la prima rete dei biancazzurri che hanno poi avuto il merito di non mollare non abbassare mai la guardia chiudendo la contesa poi nella ripresa con il rigore di Memushai ora il terzo posto in realtà per il Pescara ma il pensiero è già rivolto alla gara di Modena per il Lanciano non tutto è perduto in chiave salvezza ma bisognerà vincere le ultime due gare e sperare in qualche passo falso delle dirette concorrenti si comincia davanti ad una cornice di pubblico da serie superiore con quasi 15.000 spettatori sugli spalti nel Pescara formazione annunciata tra i frentani non c'è Marilungo sostituito da Rocca assente anche per squalifica capitana Menta avvio aggressivo della formazione ospite al quarto tiro cross di Di Matteo con Fiorillo che è costretto a respingere con i pugni al quinto la risposta del Pescara con un tiro dai 25 metri di Lapadula con il salvataggio in calcio d'angolo di Cragno passa qualche secondo di Lanciano è ancora aggressivo e crea un brivido in area bianca azzurra con Zampano che salva in angolo su Rocca la gara è già da subito avvincente all'ottavo parte il contropiede del Pescara con la palla che finisce a Caprari che tira a botta sicura con il salvataggio alla disperata quasi sulla linea di Di Matteo che evita un gol già fatto la gara non regala un attimo di sosta con attacchi dall'una e dall'altra parte al 26esimo c'è una fiammata bianca azzurra con un colpo di testa centrale di Caprari che poi sbroglia una matassa che si stava ingarbugliando segnando il gol della domenica con un tiro incredibile dai 25 metri e con il pallone che si insacca all'incrocio per l'1-0 la squadra di Primo Maragliulo accusa il colpo e al 35esimo incassa il 2-0 griffato da Francesco Zampano che fa tutto bene saltando i difensori rossoneri e mettendo alle spalle dell'incolpevole Cragno per il difensore pescarese che si toglie la maglia e viene giustamente ammonito si tratta della prima rete stagionale con la maglia del Delfino la ripresa inizia quasi al piccolo trotto prima del retropassaggio al settimo di Bacinovic a Cragno con Abisso che comanda la punizione indiretta in area e con la respinta della barriera umana rossonera su conclusione violenta e ravvicinata di Gianluca Lapadula al decimo l'ex attaccante del Teramo ci prova su rovesciata alzando sopra la traversa i rossoneri sembrano però non crederci con il Pescara che gioca in scioltezza e che trova al diciottesimo il Trisse che chiude di fatto la gara grazie ad un rigore trasformato da Memushai assegnato da Abisso per un fallo di Bacinovic sullo stesso capitano pescarese per l'albanese il gol dal dischetto e la festa sotto la Nord per un gold che mette il sigillo alla vittoria del Pescara in Lanciano un sussulto e al ventesimo di Francesco a chiamare Fiorillo alla parata in calcio d'angolo l'ex pescarese figlio d'arte ci riprova al ventiquattresimo con la palla che termina fuori di un soffio il finale è un film già visto e vede al quarantesimo la buona opportunità sprecata da Ferrari tutto solo davanti a Fiorillo prima dell'esordio stagionale di Diamutene che entra al posto di Fornasier ma c'è gloria anche per Lucas Torreira che al quarantaquattresimo nella più classica delle azioni di contropiede piazza il poker ed il 4 a 0 con cui si chiude il derby poi la festa bianca-azzurra sugli spalti e lungo le strade attorno allo stadio per un successo che vale il terzo posto a 180 minuti dalla conclusione della stagione regolare Pescara che sabato prossimo giocherà al Braglia di Modena per il Lanciano la gara interna da vincere a tutti i costi con la Ternana e proprio il Pescara facendo bottino pieno in terra emiliana potrebbe fare un grosso regalo ai rossoneri vediamo le pagelle del quotidiano il centro per il derby Caprari devastante i centrocampisti vanno alla grande Bacinovic delusione nel naufragio brilla la stella di Francesco Oddo mostra il petto grande Pescara ma ora non si molla Maragliulo ce ne potevano fare altri quattro andiamo dunque ad ascoltare le impressioni al novantunesimo di Massimo Oddo e primo Maragliulo conosco il valore dei ragazzi e sapevo che se avessimo fatto una partita giusta come sappiamo fare noi come abbiamo fatto oggi avremmo avuto larghe chance di vincere oggi l'abbiamo preparato esattamente così sapevamo di affrontare una squadra che sempre ben messa in campo ti lascia pochi spazi e l'unica maniera per aggirare queste difficoltà era quella di muovere velocemente il pallone e trovare poi i varchi non ci dobbiamo sentire assolutamente appagati perché sappiamo quanto vale la posizione in classifica in funzione dei playoff e abbiamo due partite dure come quella di oggi e dobbiamo continuare così l'unica certezza che abbiamo è quella di che se facciamo sei punti siamo certamente lì il gol ha cambiato completamente la partita perché io sinceramente ero anche contento perché i primi 15 minuti Lanciano stava giocando la partita come l'avevamo prevista e come avrebbe dovuto giocarla invece purtroppo è arrivato questo gol dopo il gol non siamo riusciti a reagire la Pescara ha sfruttato la sua bravura la sua superiorità e non ne siamo più usciti noi è chiaro che dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi poi al Pescara al di là dell'agurio che faccio di rimanere al terzo posto lo faccio anche interessato perché se rimane al terzo posto vuol dire che magari ha vinto tutte e due le partite contro due nostre diretti concorrenti però prima di tutto noi dobbiamo pensare a noi stessi per recarica vogliamo il terzo posto siamo fatti per vincere queste le dichiarazioni al novantunesimo del centrocampista Bianca Azzurra e poi Di Matteo boccia la Virtus troppo molle vediamo ancora il derby delle tifoserie record d'incasso Cori e VIP per la festa Bianca Azzurra giornata di spettacolo anche sugli spalti con quasi 14.000 tifosi 1.000 rossoneri tributo della curva nord a Domenico Rigante abbiamo visto prima lo stricione l'ultra ucciso 4 anni fa vedete in basso proprio uno degli stricioni dedicato al tifoso scomparso andiamo avanti siamo alle pagine che riguardano la Lega Pro allora andiamo a vedere invece dal messaggero i titoli che riguardano proprio il derby giocato ieri pomeriggio allo stadio adriatico derby è solo Pescara i Bianca Azzurri battono 4-0 la Virtus e salgono da soli al terzo posto della classifica i rossoneri partono bene ma dopo il primo gol si sciolgono ed emerge la differenza di valori Di Matteo dopo il gol è mancata la reazione questa è la dichiarazione del centrocampista lancianese tra l'altro pescarese Doc Oddo vietato fermarsi il mister mancano due partite dure solo dopo festeggiamo il terzo posto Verre e Sulta trascinati da un grande pubblico questa è la dichiarazione dell'ex Perugino giocatore di proprietà dell'Udinese andiamo ancora avanti Maragliulo amareggiato crollati dopo il primo gol queste le dichiarazioni del tecnico della formazione frentana allora proseguiamo sul messaggero andiamo a vedere altri titoli in questo caso che riguardano la Lega Pro perché ieri si è giocata anche l'ultima giornata della Lega Pro Mancini risveglia l'Aquila ai play-out c'è il Rimini rosso-blu che sono andati a violare con il risultato di 1-0 grazie a un gol realizzato al sesto minuto della ripresa da Mancini il campo della Lupa Roma ad aprile andiamo dunque a vedere il servizio proprio sulla vittoria dei rosso-blu l'Aquila è viva è pronta a giocarsi la salvezza nel doppio confronto play-out avversario sarà il Rimini che l'ultima giornata è stato superato dal Prato scivolando dunque al quarto ultimo posto l'Aquila è viva perché dopo dieci giornate di astinenza è tornata finalmente alla vittoria in coincidenza con il ritorno in panchina di Carlo Perrone richiamato una settimana fa al posto di Modica per risollevare le sorti di una squadra dilagnata da mille problemi non passava da Aprilia la salvezza dell'Aquila ma certamente aver ripreso confidenza con i tre punti è un buon prologo in vista degli spareggi al Quinto Ricci senza San Domenico Cosentini Pesoli e Maccarrone Perrone presenta Bruno e Bigoni con Piva e Ligorio in avanti Perna sarebbe il prescelto con De Sousa e Triarico ma l'attaccante napoletano si fa male prima della partita e allora in campo va il figlio d'arte Andrea Mancini che sarà l'uomo partita la lupa Roma per superare in classifica l'Aquila dovrebbe vincere con due gol di scarto ma le offensive dei laziali nel primo tempo sono sterili l'Aquila dal canto suo viene fuori a inizio ripresa prima Triarico fornisce un palone invitante a De Sousa che alza la mira sotto misura poi al Quinto Andrea Mancini si fionda sul rinvio dalle retrovie di Bigoni ubriaca Pasqualoni e con un preciso diagonale insacca il gol partita bella esecuzione per l'attaccante che ha avuto poco spazio nel corso della stagione poco dopo lo scatenato Triarico lavora un altro ottimo pallone per Manuel Mancini che non riesce a chiudere i conti nei minuti successivi Perrone regala il debutto al giovane Fal la lupa Roma ci prova con un paio di sortite del neventrato difensore Fabbro ma il risultato non cambia l'Aquila ritrova così un piccolo sorriso in attesa di un doppio confronto che varrà una stagione gara d'andata il prossimo 21 maggio L'Aquila si concentra sui play-out il Teramo pareggia per 3-3 a Pontedera conquista l'ottavo posto in classifica e l'accesso e la partecipazione il diritto a partecipare alla prossima Team Cup la Coppa Italia riservata alle formazioni professionistiche vediamo il servizio Chi si aspettava la classica gara di fine stagione a Pontedera non è stato deluso finisce 3-3 col Teramo che va in vacanze e chiude nell'armadietto dei ricordi non proprio indimenticabili un campionato nato sotto una stella non buonissima e che si chiude in sordina come spesso nel calcio succede la certezza della salvezza arrivata già da tre settimane fa da controaltare agli enigmi che ancora attanagliano la società di Via Oberdan il primo dei dubbi è legato al futuro del tecnico ancora da capire se quella del Mannucci sia stata oppure no l'ultima panchina in bianco-rosso di Vincenzo Vivarini d'altronde lui stesso ha lasciato più di un interrogativo prima i programmi poi il contratto con queste premesse per un accordo se ci sarà ci vorrà un po' di tempo ma la prima volta segno per Monni e Cecchini fa il paio invece con la rete di Alessandro Di Paolo Antonio che in questa stagione pare essersi proprio caricato il Teramo sulle spalle il ragazzo a stoffa e ha dimostrato di volere e poter essere un leader della squadra della sua città certo che il Ponte d'Era non è stato a guardare ha risposto colpo su colpo al diavolo e ha legittimato l'ennesimo campionato tranquillo merito di una gestione indiana in panchina Giovannini di S chiara e dagli obiettivi ben definiti fin dal ritiro estivo tutto quello che a Teramo è mancato quest'anno in cui ha regnato il vorrei ma non posso che ha dato fiato a tanto di quel rammarico che potrebbe riempire uno stadio intero da oggi dunque si pensa al futuro la guida tecnica prima il progetto come si suol dire poi la rosa tutti i compiti che attengono al presidente Campitelli in primis ma che si tradurranno inevitabilmente il lavoro per il nuovo direttore sportivo Fabio Lupo quello che c'è di certo è che non sarà un'estate rovente come quella del 2015 e questo in casa Teramo se volete è già una buona notizia il servizio di Jacopo Forcella si parla dell'interrogativo il più importante sul futuro del calcio bianco-rosso quello proprio relativo alla conferma o meno sulla panchina bianco-rossa di Vincenzo Vivarini vediamo il titolo del messaggero sul 3-3 di Pontedera Teramo il pareggio a Pontedera vale l'accesso alla Team Cup in basso Vivarini il mio futuro non ho deciso torniamo al quotidiano il centro per andare a vedere proprio gli articoli relativi alle formazioni di Lega Pro e ai servizi che abbiamo appena visto nella festa del gol il Teramo conserva l'ottavo posto questo è il titolo del centro bianco-rossi avanti 2-0 e 3-1 a Pontedera poi raggiunti Vivarini il nostro campionato è da 7 il mio futuro aspetto di sapere i programmi della società prima di decidere poi l'Aquila abbiamo visto in precedenza il servizio di Andrea Costantini questa vittoria in casa della Lupa Roma ad Aprilia l'Aquila pesca a cuori ai play-out ci sarà questa sfida fra l'Aquila ed il Rimini per giocarsi la permanenza in Lega Pro Perrone rientra e ritrova i tre punti azzeriamo tutto si riparte andiamo ancora avanti proseguiamo con la serie di Chieti si congeda con il poker dos Santos re dei bomber goleada con la Iesina il brasiliano chiude a 19 reti come titone della San Benedettese il patron Pomponi vuole tenere i migliori Varone 13 gol ad un passo da Lugano attualmente allenato da Zdenek Zeman vedete Chieti Iesina 4 a 0 ieri l'ultima giornata con il poker firmato dai Nero Verdi e poi la sconfitta anche qui un poker ma al rovescio con la vittoria per 4 a 0 a Teramo della San Benedettese già promossa in Lega Pro con il San Nicolò San Nicolò che cede alla formazione Marchigiana vedete nella foto il tecnico Massimo Epifani tecnico della formazione Teramana Lavezano fa cinquina e Lucarelli si dimette 8 gol nella sfida fra i Marsicani e la Recanatese a fine gara l'annuncio shock il mio ciclo si conclude qui ho vinto eccellenza e ho centrato la salvezza in serie D dunque finale di stagione con il campionato con queste dimissioni un po' a sorpresa ma neanche tanto perché si era capito che probabilmente lo aveva fatto capire anche ai nostri microfoni domenica scorsa al novantunesimo della gara di Esi che poteva chiudersi proprio dopo l'ultimo minuto dell'ultima giornata della stagione regolare l'avventura la sua avventura l'avventura di Alessandro Lucarelli sulla panchina dei Biancoverdi Marsicani allora vediamo anche il calcio di eccellenza cacciatore condanna il paterno Montorio passo verso la salvezza la torrese retrocede e poi impresa dell'altino a vasto United Atria Super noi torniamo al messaggero torniamo al messaggero perché vediamo anche in questo caso i servizi che gli articoli che riguardano altre due squadre della nostra regione che sono purtroppo retrocesse nel campionato regionale di eccellenza Amiternina Sprecona la Fermana Cala il Tris Aquilani che perdono per 3-0 in terra Marchigiana andiamo dunque a vedere il servizio su Fermana Amiternina Fermana ha i pre-off col vento in poppa i canarini chiudono la stagione regolare con la settima vittoria su 8 della gestione Flavio Destro la Amiternina già retrocessa viene maltrattata allo stadio Orecchioni 3-0 il risultato finale la Fermana ci mette poco a far capire chi comanda dopo 7 secondi 7 diagonale di Cremona 1-0 gli Aquilani provano subito a reagire al quarto Gizzi mette in mezzo per Terriaca che però non arriva alla deviazione ma riecco i gialloblu Valdessa al tiro dopo un ripetuto scambio a coi compagni al limite dell'aria facile per Di Vincenzo al venticinquesimo arriva il raddoppio lancio di Miccioli per Valdessa che serve per Onullo abile a controllare e a piazzarla dove il portiere ospite non può arrivare la Miternina replica con la conclusione di Petrone di nuovo la Fermana al 33esimo con la botta dei Miccioni la risposta degli abruzzesi stavolta è pericolosa Terriaca si ritrova tu per tu con Serpietri bravo però a chiudergli lo specchio della porta la Miternina insiste con Marco Tuglio l'estremo difensore Canarino è incerto e allora per poco non si fa beffare da Terriaca allo scadere serpentina di Peronullo Lennart è costretto a buttarlo giù e viene ammonito batte la punizione lo stesso attaccante della Fermana angolo la ripresa gli uomini di destro ripartono forte ma di Vincenzo dice no a Valdessa e poi sugli sviluppi dell'azione anche a corso il Tris matura dopo 10 minuti o Miccioli lancia Valdessa l'esterno si libera bene ma viene atterrato l'arbitro monaco di Termoli dopo un po' di esitazione rifisca il rigore dal dischetto proprio Valdessa spiazza di Vincenzo e il 3 a 0 al diciannovesimo Ami Ternina vicina al gol della bandiera con Cocciolone che caparbiamente recupera palla e tira decisivo Serpietri sempre gli ospiti con Terriaca che scattato sul filo del fuorigioco prova a piazzarla partita finita da un pezzo sono proprio gli Aquilani a provarci ecco Lennart sempre reattivo Serpietri poi c'è il gol letteralmente divorato da Terriaca basta così l'Ami Ternina torna in eccellenza dopo 4 anni di Serie D mentre la fermana con destro in panchina si candida a sorpresa di questi playoff un'altra squadra saluta il campionato di Serie D retrocede in eccellenza parliamo del Giulianova ecco qui il titolo l'articolo del messaggero Gianpaolo l'ultima stoccata vincente del Giulianova giallorossi che passano per 3 a 2 in casa del Monticelli ad Ascoli Piceno vittoria in influente fini della classifica tra l'altro primo successo esterno stagionale per la squadra di Dragone andiamo a vedere dunque il servizio su questa partita sarebbe stata una vittoria inutile ai fini della classifica ma perdere contro una squadra retrocessa non è certo motivo di vanto il Monticelli chiude un girone di ritorno da brividi perdendo 3 a 2 al Del Duca contro il Giulianova condannato da tempo Ascolani costretti invece il prossimo 22 maggio a conquistare la permanenza in gara secca contro l'Isernia match del quale alla squadra di Stallone basterà anche un pareggio per restare in D contro il Giulianova il Monticelli non offre una prestazione incoraggiante anzi il tecnico Stallone punta sul 4-3-3 standard con la linea offensiva composta da Petrucci Figliaggi e Margherita Galli uomo da 15 gol in campionato scivola in panchina Monticelli ha tutta birra sin dal fischio iniziale ci prova subito mattinata poco dopo è il turno di Margherita ma i giallorossi si salvano Giulianova nell'area scolana al quarto d'ora inzuccata di Giampaolo Di Nardo mette in corner il Giulianova prende coraggio alla mezz'ora va vicino al vantaggio con una conclusione di giustezza di Pellecchia Di Nardo è attento e para pochi secondi e la gara si sblocca Rufo approfitta dell'incertezza della difesa scolana e mette dentro la rete del vantaggio la reazione del Monticelli è immediata Figliaggi fissa il pari con un preciso colpo di testa su un dito di Petrucci la prima frazione si chiude con un gol per parte a inizio ripresa Figliaggi si ripete e ribatte il risultato rapida ed efficace la zampata dell'attaccante dopo una respinta di Ursini sul tiro di Gesuè il Monticelli sembra in controllo e sfiora la terza rete con Margherita Ursini si supera entra Bombergalli e esce dopo la doppietta Figliaggi la gara sembra indirizzata ma una splendida punizione di Pellecchia al minuto 79 rimette tutto in equilibrio 2 a 2 le informazioni da Campobasso raccontano della sconfitta dell'Isernia la notizia corre fino in campo e la tensione del Monticelli cala così in pieno recupero Giampaolo firma la vittoria esterna del Giulianova magra soddisfazione giallorossi in vacanza aspettando i risvolti dell'operazione che potrebbe portare alla fusione con il San Nicolò il Monticelli avrà due settimane di tempo per preparare la gara dell'anno al del Duca contro l'Isernia in palio la permanenza in Serie D dunque come avete ascoltato anche dal servizio per il Giulianova si pensa anche alla prossima stagione si continua a parlare di questo di questa acquisizione possibile del titolo del San Nicolò ma nelle ultime ore negli ultimi giorni c'era stata una frenata evidente proprio su questa trattativa allora dopo l'ampia pagina del calcio con i servizi che vi abbiamo mostrato sul derby tra Pescara e Lanciano sulle gare di Teramo e L'Aquila e sulle due partite delle due squadre che sono retrocesse nel campionato regionale di eccellenza ovvero Amiternina e Giulianova possiamo parlare di pallacanestro perché quella di ieri è stata una giornata importante partiamo dalla Serie A2 un grande Roseto e adesso c'è la bella in Serie A2 dunque Roseto che batte per 82 a 78 il Ferentino e ora si giocherà mercoledì il passaggio del turno in terra Ciociara Trullo una vittoria bellissima questo il commento del coach Rosetano e poi invece in Serie B sfuma il sogno semifinale Ortona saluta tutti Ortona battuta per 96 a 71 sul parquet del Falconara ma l'impresa se così la possiamo chiamare è stata quella dell'amatori Pescara che è andata a vincere per 55 a 40 sul parquet del Campli Amatori che dunque batte a domicilio in gara 3 la formazione Farnese va in semifinale dove se la vedrà con il Sansevero Campli che aveva vinto gara 1 poi a Pescara la vittoria dei Biancorossi in gara 2 ieri nella bella il nuovo successo della formazione pescarese poi invece brutte notizie per Vasto che perde in casa per 74 a 66 con Taranto e retrocede in Serie C e a proposito di Serie C arriva la prima vittoria della Meta Teramo nella pool promozione ieri al successo al Palace Capriano dei Teramani per 84 a 74 con il Cerignola e poi i playoff di Serie D bene Mosciano ed Atri andiamo ancora avanti l'ultima notizia l'ultima pagina di sport almeno per quanto riguarda il centro riguarda il rugby l'Aquila rivoluzione l'Aquila obiettivo Rotilio eccellenza dopo la retrocessione l'ex tecnico della Gran Sasso potrebbe guidare i neroverdi in Serie A Zaffiri passa la mano questa la domanda sul futuro della formazione rugbystica aquilana dopo la retrocessione noi chiudiamo con le pagine che riguardano il basket il calcio a 5 del messaggero Roseto un'altra impresa un grande pubblico ha sostenuto gli Sharks con Ferentino si va a gara 5 poi vedete in alto i titoli che riguardano la Serie B l'Amatori sbanca campi e va in semifinale dove troverà Sansevero la corsa di Ortona si ferma a Falconara Basto retrocede in Serie C e siamo all'ultima pagina di Sport del Messaggero in evidenza questo articolo che riguarda il calcio a 5 dopo l'eliminazione sicuramente un po' a sorpresa Giannascoli accusa il presidente del Pescara dice sapevo che sarebbe stato difficile vincere un altro scudetto ma i Veneti hanno praticato un gioco particolarmente anomalo queste le dichiarazioni del presidente del Pescara Danilo Iannascoli clima teso tra i club il Pescara a riposo ma la società non si ferma costruiremo un gruppo ancora più forte ha detto il patron della formazione bianca-azzura di calcio a 5 in alto il MotoGP giornata nera per Iannone costretto al ritiro e poi vediamo in basso due titoli che riguardano la pallanuoto ed il beach volley pallanuoto serie B maschile Pescara vince il secondo posto ormai ad una lunghezza e poi il beach volley l'ortonese Nicolai e Lupo trionfano nel torneo di Shanghai e questo era l'ultimo articolo l'ultima notizia di questa nostra rassegna stampa del lunedì come sempre focalizzata e incentrata sullo sport con i tanti servizi che vi abbiamo mostrato proprio relativi alle gare di calcio giocate ieri dalla serie B fino al campionato di serie D a me non resta come sempre che ringraziarvi per la cortese e attenzione vi ricordo come sempre il prossimo appuntamento informativo della nostra giornata alle 14 con la prima edizione del telegiornale del TG6 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti grazie per averci seguito